La fortitudo è tornata in palestra, galvanizzata dal bel successo tenuto contro Ferrara e dall'essere stata capace questa volta di approfittare del quarto rovescio consecutivo in trasferta della capolista Trieste, che ora dista soltanto due lunghezze in classifica e con lo scontro diretto che si avvicina sempre più. Per arrivarci al meglio e non dare un calcio al secchio del latte munto, i bianco-blu dovranno affrontare con la giusta concentrazione l'impegno di sabato prossimo contro Ordinuovi. Coach Stefano Comuzzo, che sarà ospite questa sera nello studio della trasmissione Basket City e che continua a guidare gli allenamenti in attesa del ritorno in pista di Matteo Bonicciolli, potrà nuovamente contare su Stefano Mancinelli. Il capitano bianco-blu serie è aggregato al gruppo dopo una decina di giorni di lavoro individuale con il preparatore atletico Parisi e sarà a disposizione dello staff tecnico per il prossimo impegno di campionato. Qualche problema inatteso invece è sopraggiunto per Demetri Mecchemi, che resterà in box almeno fino a giovedì per curare la distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica scorsa. E in attesa di chiudere il capitolo legato a Silver Bryan, in bilico fra l'accessione a Iesi e Roseto o a Piacenza in Serie B, va definendosi anche la questione legata ad Alex Ligion. L'ala statunitense ed il suo procuratore, Alex Bianco Blu Maxaldi, stanno cercando di chiudere il prima possibile l'accordo con Mantova, laddove Ligion ritroverebbe da allenatore quel Davide Lamma che in qualità di direttore sportivo della Fortitudo volle fortemente il suo arrivo lo scorso anno. Strade che si ricongiungeranno tra i due per un epilogo della trattativa, atteso al massimo entro le prossime 48 ore.